A presto Te gusta il arte, la ilustrazione e la tecnologia? Quindi devi vedere il canale di Cut2U perché è eccellente. Non dimenticare che qui ci saranno i godetti più kawaii di tutti per fare ilustrazioni eccellente. Non ti preoccupi, non ti trovi articoli di arte? Tranquilo, perché puoi trovare anche in Cut2U. Tu anche puoi trovare video di arte, ilustrazione e tecnologia. Quindi non ti lo puoi perdere. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti al canale, questo è Cut2U. Vi invito a suscribirsi al canale, entri a mis redes sociales, lo troverai in la cajita de descrizione, Instagram, Facebook e Youtube para que vean los próximos videos. Nos vemos! Ciao!